Sono venuti dallo showroom con il amuletto, così a, così a, così a, sono arrivate fino qua, le hanno scaricate, sono sculture in bronzo, bene, le hanno messe là sopra, bene così, e poi basta, finita la remissione, bene, vanno via! Internet, vai, su, scrivi Sandro Chia, con la C, A, non con la K, è italiano, ok? C, A, C, I, A, Sandro Chia, scultura in bronzo e vai a vedere quanto costa! 30.000! Ah, dimenticavo, scrivi un metro e sessanta di altezza e scrivi pezzo unico! Ok, scusate, ma a volte vi comportate in modo strano e non va bene!